Buongiorno a tutti, sono veramente felice e soddisfatto nel darvi questa bella bellissima notizia. Nel Consiglio Comunale di oggi ho portato un'importante delibera relativa all'approvazione del nuovo piano economico finanziario 2020 relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati che prevede una notevole riduzione del ben 9,66 per cento. Una bella notizia, insomma un ottimo regalo di fine anno che facciamo alla nostra città, ai nostri cittadini, alle nostre aziende del territorio dopo aver supportato un 2020 orribilis che ci ha duramente segnato tutti noi. Come previsto dal decreto Curitalia questa riduzione potrà essere conguagliata a partire dal 2021 anche fino a quote di tre anni, quote uguali di tre anni, ma come ho già riferito nella giunta tenutasi lo scorso 24 dicembre, quindi alla vigilia di Natale, l'intenzione dell'amministrazione è quella di applicare interamente subito nel 2021 tutta la riduzione del 9,66 per cento, proprio per dare un riscontro immediato, concreto a tutti i nostri cittadini e alle nostre aziende del territorio che hanno appunto, come dicevo, supportato diverse difficoltà e che quindi è giusto che ci sia questo sollievo dal punto di vista fiscale. Per quanto riguarda inoltre le utenze non domestiche che nel 2020 hanno chiuso le proprie attività a causa Covid, per ottenere la riduzione della quota variabile devono comunicare tramite il portale di Veritas la domanda, come peraltro vi avevo già segnalato con diversi comunicativi stampa, quindi se volete ottenere la riduzione della quota variabile dovete comunicare tramite il portale di Veritas. Inoltre per evitare che questo mancato introito ho fatto stanziare nel bilancio del comune la somma di 600 mila euro a copertura, evitando così che questa riduzione fosse coperta dagli altri cittadini e dalle altre aziende, proprio per evitare un ulteriore peso fiscale sulle spalle delle aziende dei nostri cittadini. Bene, detto questo ho anche l'occasione per augurarvi che il 2021 sia veramente un anno migliore per tutti noi e che possiamo finalmente riprenderci la nostra vita quotidiana nell'assoluta normalità di sempre. Grazie ancora.